Intanto un turismo in prossimità, quindi Sicilia, e poi comincia ad esserci anche il movimento in Europa e anche all'estero. L'Europa più gettonata sono sempre Francia, Inghilterra, e adesso comincia ad essere richieste il nord Europa con Finlandia, Danimarca, eccetera. E con la guerra in qualche modo sta incidendosi i flussi turistici anche in arrivo? Sta incidendosi soprattutto su quelli in arrivo, soprattutto per quelli che riguardano la parte orientale dell'Europa, quindi la Russia che era un mercato di nostro riferimento molto interessante. Per il resto invece c'è molto movimento e molta attenzione sulla Sicilia, anche grazie a questo progetto che la regione ha lanciato, che è il progetto di Sicilia, c'è stato un risveglio e una particolare attenzione. Le mete più preferite nella nostra terra di agrigento in provincia quali sono? Ma certamente Scala di Tucchi, Mare, Valle dei Tempi che non tramonta mai, poi comincia ad esserci queste esperienze dell'entroterra che vengono a valorizzare il territorio e che valorizzano l'esperienza reale dei turisti. Ecco Gaetano, un'ultima domanda, che consigli dare a chi vuole andare in vacanza? Ma certamente di decidere di partire e poi una vacanza, un posto, qualsiasi da raggiungere. La decisione però è importante perché si vive una sola volta e quindi bene viverla bene.